Quello che noi chiamiamo consolazione cristiana, che noi riceviamo da Dio, Dio ci consola nella tribolazione, nella partecipazione alle sofferenze di Cristo. Ed è una grande consolazione quella che noi riceviamo nel soffrire con Cristo e portare la croce di Cristo. Le tribolazioni sono come il terreno in cui scende la consolazione di Dio. Noi riceviamo questa consolazione in modo che possiamo anche noi consolare gli altri con la stessa consolazione con cui siamo consolati da Dio. Non si tratta di una consolazione nostra con cui noi possiamo consolare gli altri, ma la consolazione a cui tutti siamo chiamati, se siamo veramente cristiani, ma specialmente sono chiamati alcuni, questa consolazione è quella consolazione connesse intimamente con la croce, connessa con la tribolazione, con la sofferenza di Cristo. Dunque non è una consolazione nostra, ma è la consolazione che scende dall'alto. Avendo davanti questo testo, noi possiamo distinguere tre consolazioni. E distinguiamo perché possiamo cadere in un trannello avvicinando il fratello per consolarlo. C'è una consolazione che viene dal basso, un'altra che viene dal lato, un'altra che scende dall'alto. Per cui abbiamo una consolazione che emerge dal basso e la consolazione terrena dal volto diabolica. C'è una consolazione divina, quella che riceviamo da Dio e la diamo agli altri, non è nostra. Vediamo un poco come identificare queste tre forme di consolazione. Guai a voi ricchi, dice Gesù nel Vangelo, di Luca, perché avete la vostra consolazione. C'è una consolazione di questo mondo, mondana, terrena, da volte diabolica. Noi cerchiamo di consolare un fratello che è nella prova, o per un lutto, o per una malattia, o per una disgrazia, di consolarla questa persona proponendo un bene terreno, un bene materiale. Promettendo denaro, un affare, consolati così, non è questa la consolazione. Guai a voi ricchi. Proponendo un piacere carnale, non è questa la consolazione. affossiamo la persona. Proponendo un divertimento, viene in discoteca con me, ti faccio divertire. Ti faccio incontrare delle persone con cui tu ti divertirai e dimenticherai questo danno che hai ricevuto. Sono delle consolazioni terrene, talvolte diaboliche, che noi offriamo a quelli che soffrono. Ma questa consolazione terrena non soddisfa. Una consolazione mondana non può consolare una persona e trarlo dalla sua solitudine. La nostra solitudine è ben più profonda e attraveremmo la condizione dell'uomo, della donna, che soffre. Nella solitudine si trova, nel dispiacere si trova e quella consolazione che offriamo non toglie dalla solitudine, non supplisce alla sofferenza, ma aggrava la sofferenza. Primo o dopo o ben presto quella persona si trova a soffrire più di prima, si troverà più sola di prima. Non è questa la consolazione che noi possiamo dare. C'è una consolazione umana, o dettata dall'intelligenza umana, dalla scienza umana, o dettata dall'amore umano. Abbiamo due casi tipici nelle scritture. Giobbe Accanto nella sua sofferenza, tre amici, venuti da tre parti del mondo. E come il mondo della scienza, che sta accanto a Giobbe. I tre amici cercano, in tutte le maniere, di consolare Giobbe. E come tutta la scienza umana, sono i ritrovati umani, per liberare l'uomo dalla morsa del dolore, dalla sofferenza, dalla solitudine. Ma i ritrovati dell'uomo, della scienza dell'uomo, falliscono, di fronte alla sofferenza umana, di fronte alla solitudine umana. Guardate cosa dice Giobbe, capitolo sedicesimo, il capitolo ventunesimo di Giobbe. Io non vi posso sopportare, le vostre consolazioni sono di penso per me. Giobbe è infastidito dai discorsi dei tre grandi sapienti, i quali non riescono, con la loro saggezza e la loro parola, a dare, a versare un po' di olio nel dolore di Giobbe. Il quale reagisce e dice, voi mi siete di peso. Le vostre parole consolatorie non giovano a nulla. Per cui questi tre amici, pur con gli intenti buoni, pur pescando nella loro scienza, nella loro maestria, nella loro arte, non riescono a consolare Giobbe. E' un insegnamento delle scritture, che la scienza umana, che i ritrovati umani, non possono essere medicina, alla solitudine umana, alla sofferenza umana. Come la scienza fallisce, così fallisce anche l'amore. L'amore semplicemente umano. Capitolo 37 del Genesi I fratelli hanno ucciso Giuseppe, o meglio, hanno simulato l'uccisione di Giuseppe. Intingono la veste di Giuseppe col sangue di un capretto. E mandano un messaggero al padre Giacobbe. Il messaggero dice, vedi un po' se questa è la veste di tuo figlio. Quando il vecchio Giacobbe riconosce la veste del figlio, quella veste polimita, molti colori, bella, delle lunghe maniche che aveva fatta il figlio, quando vede quella veste insanguinata, sempre pensiamo a Cristo. Giuseppe in questo momento ci richiama a Cristo. E nel grande dolore, e dice, adesso non mi resta che scendere nel sepolcro e andare a ritrovare mio figlio nello sciollo. E allora vengono i figli e le figlie a consolare il padre. Ma i figli e le figlie, con tutte le buone maniere, con tutto l'amore, non riescono a consolare il padre. Il padre, privato del figlio prediletto, si sente solo. Nessuno può colmare il mio dolore. Io mi sento solo senza questo mio figlio. Lasciate che io scenda nel sepolcro. Vado a trovare mio figlio. E non vuole essere consolato. Rifiuta la consolazione umana dei figli e delle figlie. Segna che l'amore, l'amore semplicemente umano, come la scienza umana, non riescono a consolare l'uomo nel suo dolore, nella sua sofferenza, non riescono a liberare l'uomo dalla solitudine. Perché quella solitudine è una solitudine molto più profonda. E non può essere raggiunta. Né dai beni mondani può essere colmata, né immedicata dall'amore umano e dalla scienza umana. E allora ecco la terza consolazione. Non possiamo noi consolare con una consolazione mondana. Non possiamo consolare con una consolazione umana. L'unica consolazione che possiamo offrire e che è valida è quella divina. Quella che riceviamo da Dio. Perché non ha l'igno sulla terra. Non è un prodotto dell'uomo. Non è un prodotto di questa terra di tribola e spine. Scenda dall'alto. Passa attraverso la croce, come vedremo domani. E' soltanto quella consolazione che passa attraverso la croce. Ci fa entrare nel mistero di Cristo. E della nostra associazione a Cristo. E della nostra esaltazione alla gloria. Attraverso le sofferenze di Cristo. E' soltanto questa consolazione che può riempire le nostre sofferenze, le nostre tribolazioni e darci la gioia di Dio. Darci dalla nostra solitudine e riempire dalla presenza di Dio, dalla presenza di Cristo e dello Spirito chi è nella tribolazione e nel dolore. Detto questo, che cosa noi dobbiamo fare? Qui viene il difficile. Perché è facile dare al fratello che soffre una consolazione terrena. E' facile dare una consolazione umana. Ma è più difficile dare una consolazione divina. Per dare una consolazione divina bisogna essere uniti a Dio. Perché soltanto quando si è consolati da Dio possiamo trasferire agli altri la consolazione che abbiamo ricevuto. E non possiamo essere consolati da Dio se non siamo in Cristo, sofferente. Se non partecipiamo alla croce di Cristo, alla passione di Cristo, se non beviamo al calice di Cristo, se non mangiamo il pane duro di Cristo, se cioè non siamo in Cristo, partecipi dalla sua passione, noi non possiamo ricevere la consolazione che viene dall'alto. E non ricevendo questa consolazione non possiamo darla agli altri. Per cui il consolatore umano, cioè il consolatore nello spirito, è una persona che è intimamente congiunta con Dio. Sente l'amore del Padre, sente l'unione a Cristo, sente l'ardore dello spirito. È un uomo già consolato perché ha sofferto. E può essere in grado di trasferire anche agli altri, di rendere partecipi gli altri di quella consolazione che ha ricevuto da Dio. ma come potrà consolare facendo passare il fratello per quella via per cui egli è passato. Qui è il difficile. Ci vuole il transfert. E adesso andiamo per ordine. possiamo noi compiere un'opera di consolazione privatamente fratello a fratello e questa consolazione tutti dovremmo essere in grado di compiere. O possiamo anche compiere questa consolazione in un ministero, in un ministero di consolazione. per un momento guardiamo alla consolazione privata, cioè quella consolazione che ognuno di noi deve trasferire al fratello e la consolazione di Dio. Fermo sempre a questo punto. Se tu vuoi consolare deve essere congiunto a Cristo. da qui scende la consolazione. Devi tu essere aperta allo spirito di consolazione che Cristo ti dona. Altrimenti non puoi fare opera di consolazione. Nemo dat cod non abbet dicevano gli antichi nessuno dà quello che non ha. Supposto questo e allora il consolatore deve innanzitutto avere la simpatia poi l'empatia e poi la compatia spieghiamo i termini simpatia cioè deve amare cioè conoscere e amare conoscere il fratello e entrare cioè avere conoscenza ancora siamo all'esterno conoscenza del fratello sofferente amare il sofferente cercare il sofferente è difficile oggi trovare persone che amano le persone sofferenti quando vediamo un uomo soffrire ci mettiamo alla larga perché non ci sentiamo di soffrire insieme con lui quando vediamo una persona che piange cerchiamo di andare altrove dove si ride quando vediamo un gruppo di persone sofferenti quando entriamo in un ospedale cerchiamo di starci più cioè meno che sia possibile perché non ci piace la compagnia dei sofferenti non era così Gesù Gesù non era così e se noi abbiamo Gesù siamo come Gesù sentiamo come Gesù ecco sentire l'amore per i sofferenti avere una predilezione per i sofferenti una forma di simpatia non per l'uomo bello non per l'uomo allegro ma per l'uomo brutto sofferente per l'uomo che ha bisogno di te ecco la prima condizione che si richiede congiunto a Cristo sofferente congiunto all'uomo sofferente secondo passo è l'empatia entrare nella sofferenza del fratello entrare calarsi nel fratello non soltanto restare così ai margini del fratello dire una parola buona ma si tratta di entrare dentro il fratello calarsi dentro il fratello come fece Cristo Cristo si calava nelle sofferenze dei sofferenti si calava nel peccatore e non aveva timore di sporcarsi mangiava con i peccatori conversava con le prostitute non aveva paura di sporcarsi noi non abbiamo vero paura di sporcarci quando entriamo nel fratello nella sofferenza del fratello nel peccato del fratello quando viviamo la sofferenza interiore del fratello di un fratello peccatore di uno che ha rubato ed è riavvirito di uno che ha ucciso e sente il sangue che grida vendetta di uno che si è prostituito e sente la lordura del proprio peccato calarsi nel fratello e prendere il peso del fratello sentire quello che il fratello soffre questa è l'empatia entrare dentro patire dentro e poi compatire il fratello cioè non condannarlo patire insieme con il fratello portati i pesi gli uni degli altri prendere il peccato del proprio fratello la sofferenza del proprio fratello il peccato tuo lo faccio mio la tua sofferenza la faccio mia come fece Gesù che presi il nostro peccato presi il peccato dei pubblicani presi il peccato delle prostitute presi i peccati della mandalena e sollevò la mandalena sollevò il pubblicano sollevò le prostitute perché sono prese lui e gli presi i nostri dolori le nostre sofferenze e per le sue piaghe siamo stati guariti ecco l'opera di colui che vuole fare consolazione amare chi soffre andare verso chi soffre dirigere i passi verso chi soffre entrare in chi soffre e riemergere con chi soffre riemergere perché riemergendo e riportando l'uomo a Cristo il grande sofferente può quell'uomo ricevere in Cristo e da Cristo lo Spirito Santo la consolazione dello Spirito qui è difficile il momento difficile è il transfert arrivato a questo punto dell'incontro con Cristo il consolatore umano deve sparire quando è arrivato a congiungere la mano del sofferente con la mano di Gesù lui deve scomparire perché ci sia il travaso diretto senza medium cioè senza una mediazione la mediazione è già stata fatta tu l'hai condotta a Cristo adesso devi scomparire una volta che è sofferente congiunto con Cristo allora lasciare che il consolatore divino scende nel sofferente umano per cui la persona deve avere la sensazione che quell'uomo quella donna che ti ha portato alla consolazione è sparita e tu ti trovi col consolatore divino senti che è Gesù che ti consola che è lo spirito di Gesù che scende dentro di te che è la gioia divina che viene ad occupare e a diluire la tua anima che è nella sofferenza che toglie il tuo vereno che toglie la tua amarezza è il legno divino dalla croce che addocchisce l'acqua amara che è dentro di te e la rende bevibile potabile ecco questo momento del transfert è il momento più difficile perché il più delle volte noi sostiamo con il fratello restiamo con il fratello vogliamo la consolazione umana di avere consolato il fratello e tante volte impediamo questo contatto intimo profondo vitale diretto con Cristo e con lo spirito di Cristo questa è la consolazione privata che tutti dobbiamo imparare a fare se vuole essere una consolazione divina la consolazione spirituale spirituale che certamente trasferisce Dio nell'uomo e addocchisce la sofferenza umana la tribolazione umana con legno dalla croce far comprendere alla persona lo vedremo domani comprendere la persona che è inevitabile quella croce che ha quella sofferenza che ha perché è associazione a Cristo e preparazione alla gloria noi non promettiamo nulla al sofferente ma uniamo il sofferente a Cristo il resto lo farà Cristo il resto lo farà lo spirito di Cristo andiamo adesso al ministero di consolazione nei nostri gruppi ci sono nell'ambito del ministero di intercessione ci sono anche persone fratelli sorelle che esercitano questo delicatissimo ministero che noi chiamiamo il ministero dello spirito perché è il ministero del paraclito dello spirito consolatore vi manderò il consolatore per cui se tutti i ministeri sono i ministeri di Cristo questo particolarmente è il ministero dello spirito di Cristo dello spirito di consolazione vi manderò il consolatore e fonderò su di voi lo spirito di consolazione è il ministero tipico dello spirito per questo ministero devono essere scelte persone adatte perché non tutti siamo capaci di consolare ci vogliono qualità umane e qualità cristiane qualità carismatiche perché la persona si adatta si adatta a compiere questo ministero come si compie questo ministero si compie in equip dove sono presenti diversi carismi soprattutto il carisma della intercessione della compassione della misericordia che sono elementi tipici per esercitare la consolazione per cui badare ad avere un equip ben assortito affiatata perché se non c'è l'amore se non corre l'amore questa equip non può operare un equip che renda presente Cristo perché è Cristo che deve consolare mediante il suo spirito un equip che senta compassione ed è capace di prendere i pesi e di offrire se stesso come Goel cos'è il Goel è colui che si offre come riscatto il grande Goel è Cristo non aveva parlato già Job nella sua sofferenza se si trova un intercessore con lui che offre il riscatto tutto è fatto e il servo di Yahweh di cui parla Isaia proprio nel libro delle consolazioni chi offre se stessi il riscatto il gruppo orante deve essere pronto ad offrire se stesso come gruppo per riscattare il fratello per liberarlo dalla tribolazione e veicolare nel fratello la consolazione che viene da Dio perché ogni cosa si paga può succedere in nostri gruppi sa padre ci siamo messi a pregare per la guarigione per la consolazione e ne abbiamo avuto dei guai tutti siamo entrati nei guai abbiamo avuto delle noie abbiamo avuto delle sofferenze anche noi personali familiari per cui non mi sento di continuare in questo ministero ecco dobbiamo essere anche pronti a pagare di persona non che dobbiamo pagare o dobbiamo mettere là a dire signora manda a me la sofferenza del fratello no però il buon Dio vuole anche rendersi compartecipi quando vuole consolare della sofferenza del mistero della sofferenza per cui quelli che sono in questo ministero devono essere pronti a soffrire soffriranno perché il buon Dio manderà qualche sofferenza o personale o familiare o più economica a queste persone per cui persone pronte a subire a pagare in certa qual maniera il prezzo del riscatto tutto lo paga sempre Cristo ma è partecipazione alla sofferenza di Cristo per poter così veicolare nel fratello la consolazione che viene dallo stesso Cristo sono le qualità che si richiedono e poi compiere questo ministero bene con diligenza che significa con diligenza innanzitutto prima qualità primo diciamo primo requisito è l'amore se non si è l'amore non si può fare niente secondo requisito pazienza avere pazienza 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 terzo requisito insistenza insistenza cominciamo a dire l'amore l'amore per il fratello per la sorella che soffre e l'amore circolante dell'equip perché se non c'è l'amore se non c'è l'accordo per la preghiera di consolazione non sortisce effetto perché è Cristo che deve consolare dice Gesù nel Vangelo quando vi mettete a pregare mettetele prima d'accordo controllate se c'è accordo tra di voi se c'è comunione tra di voi per cui l'equip deve controllare l'unione con Dio cioè la comunione verticale e la comunione orizzontale questo è l'amore e l'amore per il fratello ecco i tre parametri quello verticale cioè l'asse Z mi pare poi l'Y quello orizzontale e l'X quello che parte verso se stesso cioè verso quella persona verso cui noi parliamo per cui noi parliamo i tre parametri Z verticale Y orizzontale X basale pregare senza esitare significa non fare una preghiera così ma insistere nella preghiera con molta fede avere una grande fede nella forza operante dello spirito perché se noi facciamo una preghiera consolatoria diciamo parole consolatorie non sortiscono all'affetto e lo spirito santo che deve scendere lo spirito di Cristo per cui dobbiamo avere grande fede nel potere consolante dello spirito grande fede e se non vediamo subito l'affetto insistere essere insistenti essere così come dice come detto in Isaia non datevi riposo e non datemi riposo non dare riposo a Dio e non darci riposo a noi e se noi con insistenza preghiamo preghiamo con fede preghiamo con amore e mettiamo il fratello proprio nel banto dell'amore inevitabilmente la consolazione di Dio scenderà sul fratello e quel fratello sgranerà gli occhi uscirà dalla sua solitudine si troverà nel cuore Cristo Cristo ed è lui la consolazione degli uomini è lui che ci toglie da ogni solitudine sgranerà gli occhi vedrà la luce è Dio che ha operato quella consolazione divina attraverso noi attraverso l'equip orante io vi esorto alla consolazione privata come vi ho detto esercitata nella maniera che vi ho detto mi esorto i gruppi ad avere un'equip di tre quattro persone adatte a compiere questo ministero e chiudo con un esempio so di un gruppo che esercita questo ministero con il telefono ascolto e sono quattro cinque persone che si avvicendano nell'ascoltare ascoltare assiduamente la gente ci sono due così due telefoni due numeri che sempre squillano e persone attenti con pazienza a recepire a recepire le ansie le richieste i dolori della gente e in quell'ascolto già c'è una consolazione oggi gli uomini cercano chi li ascolti il lamento che c'è nella chiesa tra i fedeli è che la chiesa non ci ascolta i preti non hanno tempo di ascoltarci perché hanno premura hanno le loro cure pastorali debbano celebrare la messa debbano insegnare non hanno tempo da perdere con noi e allora la gente cosa fa va dei maghi dei fattucchieri va da altre persone che possono dare offrire una consolazione oggi tanta gente vuole essere ascoltata non c'è chi mi ascolte se c'è un gruppo che almeno ascolte che presta attenzione tutti abbiamo premura tutti ho premura ho premura ho premura premura domani post domani si va bene vedi che puoi fare tutti abbiamo premura non abbiamo tempo da perdere mentre quel tempo è tempo prezioso da impiegare per i fratelli che soffre e allora ecco che il semplice fatto che noi ascoltiamo che perdiamo il tempo ad ascoltare attraverso il telefono tutte le lagne tutti i guai delle persone già c'è una prima consolazione una prima apertura che è un'apertura a Cristo perché quelli della consolazione subito non dicono parole di consolazione ma aprono lo spiraglio della fede aprono a Cristo per cui la persona è già incomincia ad essere evangelizzata si apre alla luce si apre al conforto riceve la speranza di una preghiera riceve la speranza di una guarigione di una liberazione di un soccorso che viene dall'alto per cui questa è una forma di ministero molto valido che ha prodotto nel tempo tanto bene ha creato anche delle guarigioni spirituali anche delle guarigioni fisiche per questo atto di amore che guarisce perché l'amore guarisce l'amore libera l'amore solleva ecco un esempio di come noi possiamo esercitare in equip questo ministero di consolazione conosco questo gruppo che ha questo compito e ormai dia dieci anni è in questo telefono ascolto quante persone sono state aiutate sollevate guarite quante persone sono state consolate ecco una forma di consolazione c'è un'altra forma di consolazione visitare le persone sole non tanto gli ammalati ma le persone sole c'è un'altra piccola equip conosco un altro gruppo che visita le persone sole negli aspizi figli nelle case così dal rancore verso i figli e le figlie verso le nuore che le hanno relegate in quel luogo e allora portare una parola di sollievo di consolazione a queste persone sole oppure le persone sole che si trovano così anche nelle case private visitare queste persone ci sono molti che fanno la visita agli infermi è una buona cosa ma sono poche le persone che visitano le persone sole che aiutano le persone sole poi c'è un altro modo anche per venire incontro alla solitudine radunare le persone sole le persone abbandonate dai mariti le persone che hanno perduto i mariti ecco riunirli insieme ritrovarsi insieme fare feste insieme non fare sentire la propria solitudine sono tutti modi comunitari in cui noi possiamo esercitare un ministero che è di grande aiuto di grande sollievo ed è di ministero nello spirito in cui l'uomo viene fatto uscire dalla propria solitudine e trova la compagnia nello spirito non si va soltanto come persone umane ma si va come carica dello spirito e allora la gioia fiorisce là dove c'era la noia la pace fiorisce là dove c'era il subuglio l'astio il rancore e queste persone sole non sono più sole non sentono più la solitudine ma si trovano in compagnia in compagnia di altre persone ma soprattutto in compagnia con Cristo Signore che vive in queste persone fratelli e sorelle io non mi delungo voi ho indicato la strada per essere dei consolatori nello spirito o privatamente oppure in equip scegliete voi la forma migliore ma consolate consolate il mio popolo dice il Signore Amen